eccoci abbiamo avuto un problema tecnico che adesso risolveremo io sono partito senza scarpe esatto tutto risolvibile al momento dai ci vediamo dopo ciao ciao ci siamo siamo cavalese poco traffico tutto fila liscio bacca che roba eh sì allora sente male ecco no no sì sì primo passo si parte col sal pellegrino primi tornanti siamo al terzo chilometro e mezzo del san pellegrino ed è sempre lui a tirare è sempre il biker becker o becker biker chiarini dietro chiarini dietro controlla io praticamente sono rovinato sono schiacciato in mezzo mi stanno imponendo il loro ritmo come al solito ne parleremo alla fine esatto salutate tutti va salutate il primo è andato adesso si parte per il secondo non è andato Siamo all'inizio del Nalles Qui ci aspettano 7 km di ascesa continua senza respiro Dietro ho già chi sta alzando il ritmo Io li sento perché io li conosco Io li conosco ma io non mi farò trarre in inganno Io non cederò alle tentazioni se vuoi se vuoi abbiamo problemi Anche questo è andato Eccoci L'ultimo della giornata Passo Roller avanti L'ultimo della giornata 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 è arrivato Terminato L'ultimo della giornata